Ieri nuova udienza preliminare a Palermo del procedimento a carico del leader della Lega Matteo Salvini. Per la vicenda Open Arms. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Nel corso dell'udienza preliminare di ieri che vede imputato l'ex ministro dell'Interno. Il leader della Lega Matteo Salvini per sequestro di persona. È stato dato in carico a due periti per la traduzione dall'inglese e dallo spagnolo di alcune mail e conversazioni a bordo della nave della ONG spagnola Open Arms. Prodotte dalla difesa. Il comune di Palermo ha chiesto poi al GUP Lorenzo Iannelli di costituirsi parte civile in caso di processo. Ma il GUP ha rinviato tutto al 20 marzo quando ci sarà la nuova udienza. L'accusa è rappresentata dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi. Dall'aggiunto Marzia Sabella e dal PM Geri Ferrara. Il GUP Nunzio Salpietro ha disposto un approfondimento. Citando il premier Conte e altri ministri. Per verificare ciò che sostiene Salvini e la sua difesa. Rappresentata dall'avvocato Giulia Buongiorno. La decisione di non far sbarcare i migranti fu una scelta dell'intero esecutivo. Nell'atto d'accusa dei PM, ci sono due lettere del presidente Conte. Lettere nelle quali, nei giorni in cui si svolse la vicenda, il presidente del Consiglio sollecitava l'allora ministro dell'interno Salvini a far sbarcare al più presto i 27 minori non accompagnati perché la situazione sulla Open Arms era ormai drammatica.